Ogni giorno milioni di mani toccano milioni di maniglie, causando il trasferimento di virus e batteri da una superficie all'altra. Esiste un modo semplice per offrire un servizio in più alla tua clientela, per aumentare la tua e la sicurezza di tutti. Utilizzare Handy, l'accessorio per maniglie e maniglioni di ogni tipo marchiato Novafer, che permette l'apertura delle porte tramite l'avambraccio. Facile da montare, disponibile in due colorazioni e completamente regolabile, essenziale in tutti quei contesti nei quali l'igiene è di fondamentale importanza. Handy è il modo più igienico di aprire.